Vieste tra le località Cinquevele nella guida Il Mare Più Bello 2024. Con il primo giorno ufficiale d'estate arriva anche la bella notizia. Dopo l'ingresso dello scorso anno di Vieste tra le località Balneari a Cinquevele, la classifica delle spiagge più belle d'Italia. Proprio a Roma, in occasione della presentazione della guida Il Mare Più Bello 2024, curata dall'Associazione Ambientalista e dal Touring Club italiano, a ritirare il prestigioso premio per il Comune di Vieste, è andato il Vice Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici, Pecorelli, Mariella. È un grande onore per noi ricevere questo riconoscimento, ha detto Mariella Pecorelli, il Vice Sindaco, un riconoscimento che arriva dopo la riaffermazione della bandiera blu. Questo è il risultato di un lavoro dedicato e corale in ogni settore da parte della nostra amministrazione, ha continuato il Vice Sindaco Pecorelli, per garantire la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Con la sua offerta turistica di eccellenza, continua la Vice Sindaco, Vieste si conferma come un esempio virtuoso nel panorama delle località balneari italiane, garantendo ai propri visitatori un'esperienza indimenticabile all'insegna della bellezza, della cultura e del rispetto per l'ambiente. L'ospitalità, la cultura e una gestione sostenibile sono elementi fondamentali per la crescita di Vieste come meta turistica di qualità. Siamo orgogliosi, continua la Vice Sindaco, di essere riconosciuti come le 5 vele che vede coinvolte solo 3 località della Puglia e 21 in tutta Italia e continueremo, conclude, a lavorare per mantenere alto il nostro standard di accoglienza.